La Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato al termine di due distinte operazioni investigative individuando altrettanti trasporti 37 tonnellate di tabacco per narghile destinato al mercato del nord Europa dove risiedono numerose comunità di cittadini dediti alla consumazione di tali prodotti soprattutto all'interno dei shisha bar. Il primo sequestro è avvenuto al termine di un'indagine iniziata nel settembre dello scorso anno che ha consentito di individuare un container proveniente dal Montenegro e diretto in Croazia con un carico dichiarato di circa 12 tonnellate. Ingegnoso il meccanismo di frode scogitato coinvolgendo alcune società fittizie. Predisponendo una documentazione falsa del trasporto il tracciamento della spedizione sarebbe stato evitato così come il conseguente versamento delle imposte dovute. Se il quantitativo sequestrato fosse stato introdotto nei circuiti del mercato illegale avrebbe consentito un profitto illecito pari a 1.200.000 euro con un milione di evasione di diritti di confine. Ulteriori sviluppi hanno portato ad intercettare un altro carico di 12 tonnellate contenuto in un container poi posto sotto sequestro in attesa di essere sdoganato nel porto di Genova. Un carico di poco superiore alle 13 tonnellate è stato invece sequestrato a bordo di un auto articolato proveniente dalla Turchia e diretto in Francia. In uscita dal porto di Trieste i finanzieri hanno rilevato una serie di anomalie riferibili al peso del prodotto dichiarato, tappeti e mobili vari, non conforme a quello indicato sul manifesto di carico delle merci.